Eugenio Gaudio, appena nominato dal Consiglio dei Ministri nuovo commissario alla sanità in Calabria, ha rinunciato al suo incarico. Lo ha annunciato lo stesso rettore uscente dell'Università La Sapienza di Roma. È il terzo commissario alla sanità che si dimette in regione. Motivi personali e familiari me lo impediscono, ha dichiarato a Repubblica Gaudio. Mia moglie non ha intenzione di trasferirsi a Catanzaro. Un lavoro del genere va affrontato con il massimo impegno e non ho intenzione di aprire una crisi familiare. Per Gaudio sarebbe stata una sfida importante, ma la famiglia per me è un valore primario. Gaudio è rimasto ferito per le notizie che hanno richiamato un suo coinvolgimento nell'estate 2019 nell'inchiesta sull'Università di Catania. Sono sempre colpito dall'imbarbarimento della politica. Il procuratore di Catania ha appena fatto sapere al mio avvocato che è andato a depositare la richiesta di archiviazione per la mia presunta turbativa nei concorsi. Ne esco come ne sono entrato, pulito, dice Gaudio. L'ex rettore avrebbe voluto provare. È un impegno gravoso, ma mi sono sempre messo a disposizione del servizio pubblico, ha sottolineato. Ho trovato resistenza in casa e a questo mi piego, l'ho detto per tempo, al ministro Speranza. Gaudio continuerà ad insegnare due corsi di medicina, consulente del ministro dell'Università Manfredi, direttore dell'osservatorio delle scuole di specializzazione di medicina. La vita di Eugenio Gaudio resta comunque molto intensa.